Qualche giorno fa abbiamo parlato di questo aereo, nome in gergo Sugar Vault, un innovativo aereo ibrido che sta nascendo da una joint venture tra Boeing e NASA del quale non vi sto a riraccontare perché ci ho fatto un video bellissimo, dedicato, che potete recuperare cliccando sulla scheda che è uscita qua sopra. Quella che volevo darvi però in questo video di oggi è una personale opinione su questo strano aereo che secondo me non vedremo mai, o meglio non come lo pensiamo adesso. Quindi ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video che inizia con delle premesse importanti. NASA e Boeing avranno investito i miliardi e avranno i migliori ingegneri del mondo a disposizione, quindi non sarà certo un tizio random su YouTube a prevedere l'esito di quello che sarà un progetto multimilionario. Però posso parlarvi di qualche punto critico che secondo me affonderà o almeno rallenterà di molto questo progetto perché è già successo con altri aerei, problemi, situazioni, criticità molto simili in passato nella storia dell'aviazione e quindi adesso vi spiego tutto. Anzi, altra premessa, non esiste un aereo perfetto. Ogni macchina volante è un compromesso per raggiungere uno scopo finale, bilanciandosi però tra costi, tecnologie disponibili, di solito velocità, efficienza di carburante, un altro miliardo di fattori. Ci sono stati per dire parecchi progetti nella storia che hanno battuto primati, erano pensati per quel determinato scopo, tipo il Conver 990, ma hanno ad esempio trascurato l'economia. E quindi magari sì, ci sono riusciti ma per le compagnie costava talmente tanto operarli che alla fine, anche se sono riusciti nel loro intento, poi il progetto è stato un fallimento perché non conveniva a nessuno usarli. Viceversa, sono esistiti aerei molto cheap che per sottostare alle richieste economiche delle compagnie aeree hanno trascurato aspetti importanti e hanno poi magari negli anni portato a diversi incidenti o comunque a continui problemi di manutenzione. Quindi partendo dal presupposto che ogni scelta nella progettazione di un aereo viene fatta a discapito di alcuni fattori, adesso vi spiego perché secondo me questo sugar volt del NASA e di Boeing, per il periodo storico in cui viviamo, lascia un po' di dubbi. Allora, l'obiettivo finale di questo aereo sono i costi. Deve costare poco da operare e per farlo l'unico modo è consumare poco carburante e poi sì, l'ambiente, le cose green, ma la verità dei fatti è che l'ecologia è diventata di moda nell'aviazione da quando il carburante costa molto. Perché negli anni 60, quando la benzina costava niente e l'obiettivo era portare più passeggeri possibile, più veloce e più lontano possibile, si barattavano molto volentieri i consumi per la velocità e al tempo andava bene, perché era quello che il mercato richiedeva. Ma ad oggi decisamente non è più così, quindi per consumare poco si sono inventati questa lunghissima ala con questi due supporti che però generano anche portanza, quindi sono a loro volta delle ali e quindi in teoria rendono il tutto ancora più efficiente. E questa sarebbe già un po' una prima critica, perché è un po' inutile fare delle lunghissime ali super efficienti se dopo per tenerle insieme, per far sì che non si spezzino, devi metterci dei supporti che ti generano ulteriore resistenza. Però ce li hanno spacciati come ali aggiuntive questi supporti e quindi comunque quella portanza da qualche parte andava generata e va bene, lo diamo per buono questo. Primo vero punto critico però è comunque la lunghezza di queste ali, perché tutto bello ma poi atterri e sbatti dappertutto, perché hai le ali lunghe il doppio degli aerei che dovrai andare a sostituire. Ed esiste un codice in ogni aeroporto che descrive quali aerei possono atterrare ed è composto da una lettera e un numero. E la lettera descrive appunto l'apertura all'area massima degli aerei e la larghezza del carrello, proprio per permettere la movimentazione a terra, per essere sicuri che un aereo che se ne va in giro ci stia e non sbatta contro niente. Quindi sì, ci hanno pensato alla larghezza degli aerei, però ci sono molti aeroporti piccoli nel mondo, dove piccoli vuol dire quelli per i voli nazionali o anche continentali. E adesso se un aereo per voli di medio raggio può atterrare solo in aeroporti intercontinentali, perché se no non ci sta, capite che si gioca un'enorme fetta di mercato. E quindi, visto che ci hanno pensato a questa cosa, hanno deciso di piegare le ali, come abbiamo visto nel video. Le ali ripiegabili non sono una novità. Durante la guerra già diversi aerei avevano la possibilità di piegare le ali, come il Corsair ad esempio. Ma, lo vedete, erano aerei e ali molto piccoli rispetto alle dimensioni di un aereo di linea. A proposito di aereo di linea, non esiste nessun aereo commerciale ad oggi che ripieghi le ali. C'è il Boeing 777X che ripiega le wingtips. E la ragione è la stessa dello Sugar Vault, per occupare un po' meno spazio quando è al suolo. Infatti, se pensate che le wingtips siano poca roba, che siano piccole, pensate che l'apertura all'area di questo aereo passa da 71 metri e 76 a 64 metri e 80. Praticamente l'aereo si accorcia di un Pia 28. E già per Boeing sviluppare questo sistema è stata un'enorme sfida. E non sono nemmeno strutturali, sono dei wingtips. Sono solo le puntine delle ali. Se sei in volo e ti si sgancia, ti si piega una wingtip, sicuramente non è bello, sicuramente non voli pulitissimo. Ma se allo Sugar Vault del caso, in volo, gli si piega l'ala a metà, non penso che riesca a rimanere su. E ci penseranno sicuramente, però per evitare che ciò possa accadere in volo, dovranno fare dei sistemi di aggancio robustissimi e in quanto robustissimi pesantissimi. Questo è l'altro compromesso a cui devono stare attenti. Ha senso fare un'ala così lunga se poi l'efficienza tela giochi dovendo portare più peso, solo per il pesante meccanismo di blocco dell'ala che devi far pieghevole? O era meglio magari fare un'ala un po' più corta e più leggera? Ovviamente la risposta a questa domanda sarà frutto di decenni di studi e sicuramente avranno visto che questa qua sarà precisa al centimetro, la forma più efficiente di tutte. Però è strano. L'altra cosa che stride un po' come delle unghie su una lavagna sono quei tunetank, sono quei serbatoi appesi sotto le ali. E cioè l'ala ha una forma perfetta, super efficiente, disegnata al meglio e dopo ci attacchi sotto due tanniconi che sembrano i serbatoi usa e getta del P38. Anche lì non era meglio fare l'ala un po' più spessa e come tutti gli aerei mettere il carburante dentro l'ala? Oppure in ogni caso la parte interna dell'ala è occupata sempre da quel famoso meccanismo che deve bloccare il piegamento delle ali? Non lo so, quei due serbatoi giganti creano resistenza aggiuntiva e boh, forse ci poteva fare in un'altra maniera. Non sto qui a parlare dei sistemi propulsivi, del fatto di fare un ibrido che rosene batterie e della densità energetica delle batterie, dell'efficienza delle stesse, perché è difficile riassumere la cosa in pochi concetti. Probabilmente ad oggi, 2023, non abbiamo batterie adatte per questo aereo. Però è già successo nella storia che certi aerei vengano disegnati con in mente la disponibilità di tecnologie che adesso non esistono ma esisteranno quando l'aereo arriverà nelle ultime frasi di produzione. Quindi è normale, per progettare un aereo ci si mette un decennio magari, è normale che non mi baso solo sulle tecnologie di oggi, ma facendo le opportune proiezioni ragiono su quelle che saranno le tecnologie tra magari 8 anni invece che 10, insomma più verso il momento in cui l'aereo è pronto. Quindi ad oggi sì, le batterie su un aereo fanno ridere perché la densità energetica è ben inferiore a quella del Jetta 1, ma vi ricordo che stiamo parlando di un aereo che arriverà tra il 2030 e il 2050, diciamo, ed è molto probabile che seguendo l'attuale sviluppo tecnologico per allora avremo batterie adatte per far sta roba. Quindi questa delle batterie è l'ultimo dei fattori, però secondo me in generale questo aereo avrà dei grossi problemi perché, ok, lo fanno anche altri di puntare su tecnologie che ad oggi non esistono, dove tecnologie parliamo anche magari di meccanismi strani per il piegamento dell'ala o efficienze o cose varie. Ci hanno fatto forse un po' troppo affidamento in questo caso e soprattutto in aviazione le tecnologie e le cose non devono solo esistere, ma essere anche affidabili e sicure. In passato era successa proprio questa cosa a un aereo iconico, il Lockheed L-1011, un aereo super innovativo, anni avanti ai suoi concorrenti, che però fallì e fece perdere miliardi a Lockheed perché la Rolls Royce aveva promesso un motore più corto che non riuscivano in nessuna maniera poi nell'aletto pratico a creare. Se gli hanno detto, ah sì sì, tra qualche anno sicuramente avremo un motore più corto, così, perfetto, e passano gli anni e vecchi non ci riusciamo, non ci riusciamo. Pensate che proprio in questa occasione la Rolls Royce fece fallimento ed è proprio l'occasione in cui fu acquisita dal governo britannico, fu nazionalizzata per una questione di orgoglio nazionale, ma la Lockheed si trovò con un aereo perfetto in mano, a cui mancava uno dei tre motori, perché poi non erano neanche tutti uguali, mancava solo il terzo motore. E questi enormi ritardi fecero sì che non si arrivò in tempo per battere la concorrenza e persero miliardi con un aereo perfetto. Poi questa storia è molto interessante, magari ci faremo un video dedicato, fatemelo sapere nei commenti, ma al punto l'avete capito. Contare su tecnologie future è sì fattibile, ma molto rischioso, e anche un piccolo dettaglio a cui non avevi pensato potrebbe far naufragare un progetto multimilionario che ha anche studiato bene. Bene, queste erano le mie personali riflessioni, abbastanza lunghe da farci un video dedicato. Sicuramente NASA e Boeing avranno fatto i compiti a casa, avranno fatto i loro conti, sapranno come aggirare questi problemi. Sono curioso di vedere come evolverà il futuro di questo progetto, che comunque, oh, sono due giganti dell'aviazione, e quindi sulla carta sembra promettente, come il pollice in su che metterete a questo video, se il video vi è piaciuto. Per questo video è tutto, iscrivetevi al canale, controllatevi di essere iscritti, ciao a tutti, pollice in su!